Ciao a tutti, io sono Valerio e come sapete mi occupo di sciamanesimo. Anche oggi vorrei rispondere a una domanda che mi avete fatto in questi giorni, nello specifico mi avete chiesto se lo sciamanesimo può essere integrato e adattato a delle pratiche spirituali di guarigione che già una persona conosce. Iniziamo dal dire che lo sciamanesimo non ha dogmi e quindi non ha delle regole prestabilite, delle regole in cui si dice è così, va fatto così, punto e basta. Lo sciamanesimo si può benissimo quindi adattare ad altre pratiche spirituali, tenete anche presente che tutto nasce dallo sciamanesimo, lo sciamanesimo è la prima pratica spirituale venuta al mondo e quindi tutte le altre pratiche in un certo senso sono figlie dello sciamanesimo e quindi possiamo benissimo andare a integrare queste pratiche nelle nostre pratiche che utilizziamo tutti i giorni di guarigione, di spiritualità. Ovviamente come tutte le cose prima dobbiamo imparare a maneggiare la tecnica, quindi sarebbe un po' forzato all'inizio andarla a integrare subito con le nostre pratiche. Prima si fa pratica, prima si impara la tecnica, una volta che la tecnica l'abbiamo assimilata è diventato, fa parte del nostro bagaglio, della nostra cassetta degli attrezzi, allora a quel punto possiamo andare a integrarlo con quello che già facciamo. Anzi potremmo dire che quando si vanno a integrare diverse pratiche spirituali si va anche ad aumentare, a migliorare il potere della guarigione stessa, quindi la risposta è sì. Se avete altre domande fatemele nei commenti che vediamo se nei prossimi giorni riesco a rispondervi. Vi saluto, ciao e alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!